Buongiorno, è domenica 27 settembre. Questa settimana è iniziata con una notizia storica perché la Guardia di Finanza, dopo anni di denunce e di inazione, è intervenuta presso le sedi di Banca Popolare di Vicenza. Ne abbiamo parlato ampiamente e continueremo a parlarne nelle prossime settimane. Intanto voglio far capire subito che la questione della class action è una questione che stiamo dibattendo perché, l'abbiamo detto più volte e lo ripeto, l'attuale class action, quella che è attualmente in vigore, è estremamente inefficace. Cioè è stata fatta dal governo Berlusconi, è stata fatta malissimo apposta perché in pratica non si potesse usare. Ha costi elevatissimi per chi la intraprende e una serie di paletti di bastoni tra le ruote che la rendono veramente inefficace. Quindi tutti quanti continuano a chiederci farete una class action? Con la legislazione attuale è praticamente inutile, è estremamente difficile farla. Sicuramente adesso al Senato noi stiamo premendo per portare avanti la riforma della nostra class action perché ricordiamolo è stata la proposta della nuova class action è di origine Movimento 5 Stelle. Alla Camera è passata, guarda caso Confindustria ha detto che non gli va bene e quindi al Senato è bloccata, è ferma, è impantanata. Se passasse la nuova class action immediatamente sarebbe facile e automatico proporre una class action contro il popolare di Vicenza. In questo momento è una questione di battuta, le varie associazioni dei consumatori ci stanno pensando e ci stiamo pensando anche noi, ma ripeto i costi sono elevatissimi, gli ostacoli sono elevatissimi, è stata fatta apposta per essere inefficace. Allora detto questo sulla popolare di Vicenza, la settimana scorsa come Commissione Industria abbiamo aperto una nuova procedura per quanto riguarda un meccanismo di potenziamento tra virgolette dei certificati bianchi. I certificati bianchi sono una maniera per incentivare l'efficienza energetica perché danno proprio dei soldini ad aziende privati che fanno interventi di efficientamento energetico. Il problema qual è? Il problema è che questa proposta di riforma va nel senso contrario a quello che come movimento vorremmo, cioè implementare, amplificare i lavori sull'efficienza energetica. Questo perché limita le risorse per questi interventi, diminuisce l'entità degli incentivi e anzi rende questa entità addirittura aleatoria. In buona sostanza impedisce i piccoli interventi, i piccoli interventi in campo civile, in campo industriale, anche attraverso le fonti rinnovabili, limitando l'incentivo ad alcuni specifici interventi. E poi il mezzo classico, più subdolo e anche più efficace, complica la burocrazia, complica la predisposizione delle pratiche anche retroattivamente. Quindi ennesimo intervento a gamba tesa, a gioco attivo, a gioco attivo, ennesimo intervento retroattivo. Quindi questo intervento che è una proposta, ricordiamo, del Ministero, aumenta in buona sostanza i costi energetici per le persone a reddito più basso perché gli impedisce di fare efficienza. Scoraggia quindi la diminuzione dei consumi e l'incremento della virtuosità e questo risulta come, scusate gioco di parole, come risultato, il permanere di elevati consumi di energia che ricordiamolo all'80% si fa ancora con le fonti fossili. Sia ben chiaro la stragrande maggioranza dell'energia si fa ancora con le fonti fossili. Quindi secondo noi l'intervento proprio è propedeutico a far permanere lo status quo attuale con elevati consumi energetici. Naturalmente su questo vi terremo aggiornati nelle prossime settimane. Intanto se vi ricordate noi avevamo sollevato dubbi anche sulla proposta di abolizione del mercato tutelato e vede oggi 9 milioni di utenze tutelate appunto da un ente pubblico che fa diciamo da gruppone d'acquisto pubblico per 9 milioni di italiani. Ecco c'è anche in questo caso una proposta di abolirlo nel 2018. Noi avevamo sollevato assieme a molte associazioni di consumatori forti dubbi su questa proposta. Adesso notiamo che anche altri soggetti politici si stanno esprimendo in questo senso. Altra cosa che abbiamo fatto la settimana appena trascorsa. Il sottosegretario del ministro del sviluppo economico è venuto a rispondere a una mia interrogazione sulla riforma della tariffa elettrica. Se vi ricordate ne abbiamo parlato diverse volte, continueremo a parlarne. Questa riforma aumenterà i costi per le fasce basse di consumo, per chi consuma poco dal 1 gennaio aumenteranno i costi dell'energia elettrica. Io ho fatto un'interrogazione, è venuta la sottosegretaria a rispondere, vi farò un video dettagliato perché merita la risposta del sottosegretario, merita un video a parte, ve la farò domani dopo domani appena un attimo. Volevo finire questo breve resoconto con un allarme. Anche ieri sul telegiornale Veneto ampio spazio all'incendio di un ennesimo impianto di riciclaggio dei rifiuti. Anche nel mio Veneto prosegue questa vera e propria campagna che negli ultimi mesi ha visto incendiare più di 30 impianti di compostaggio, di riciclaggio. Quindi è in atto un vero e proprio attacco da parte della criminalità organizzata, da parte di chi vuole sostenere anche in questo caso lo status quo attuale del ciclo dei rifiuti, quindi o con sversamento in discarica o con conferimento agli inceneritori. Allora da un punto di vista energetico, da un punto di vista di posti di lavoro è estremamente più efficace fare il riciclaggio e il recupero dei rifiuti. Però questo appunto comporta che chi in questo momento sta guadagnando sulle discariche e sugli inceneritori si vede portare via il mercato. Risultato, strategia del terrore, 30 incendi negli ultimi mesi, di cui l'ultimo ieri proprio nel mio Veneto. Ve lo volevo dire subito, la notizia naturalmente sta già girando da diversi giorni. Anche in questo caso non ci lasceremo intimidire e continueremo a lottare per un riciclaggio, per un recupero dei rifiuti che da un punto di vista energetico è molto più conveniente, da un punto di vista di creazione e mantenimento posti di lavoro è molto più conveniente, da un punto di vista ambientale è molto più conveniente. Quindi mi raccomando anche voi cittadini premete verso i vostri politici locali per prepararsi a questa eventualità perché sarà molto probabile che fra qualche settimana diranno che siamo in emergenza perché molti di questi impianti appunto hanno preso fuoco e quindi emergenza rifiuti. Ecco è un'emergenza che è stata preparata scentamente e dolosamente. Alla prossima!